Allì deve un metro, subendo un sacco di patata in cada mano, di 20 kg a cada uno, subendo una cosa, va al tiotto al norma, e si dice un hit dando un sacco alla bassa e si pone, ariamma deve essere più, 20 kg in cada mano, e salta, e stanno, e ora la pelle, la papa è la sua puta madre.